Verrà sbloccato l'Ite per il versamento alle frulli Venezia Giulio della compartecipazione al gettito delle tasse automobilistiche che dopo il trasferimento di funzioni dalla motorizzazione civile alla Regione non è stata ancora portata a compimento. L'ha stabilito a Roma la Presidente della Regione Debole Sracchiani e il Ministro per le Falle Regionali Graziano Del Rio. Stato e Regione avevano definito gli aspetti finanziari rapportati agli oneri derivanti dal trasferimento individuando la copertura dagli oneri correlati all'incremento di 1,1 decimi dell'IVA riscosso nel territorio regionale. Alcune modifiche inetrodotte autonomamente dallo Stato come l'obbligo di utilizzo di sistemi informatici hanno di fatto bypassato la Regione attribuendo allo Stato i diritti prima di riscossi sul territorio. Per la Sracchiani questo ha disatteso accordi e interessi precedenti e soprattutto causato un crescente disavanzo gestionale a carico del bilancio regionale e a questo va posto un sollecito rimedio. Dal Ministero è giunta l'assicurazione che gli uffici regionali competenti saranno convocati in tempi brevi a un tavolo in cui il Governo sarà rappresentato anche dal Dicastero dell'Economia e delle Finanze. Siamo fiduciosi, commenta la Sracchiani, perché abbiamo fatto un altro passo verso il riconoscimento da parte dello Stato di un diritto che spetta alla Regione.